allora benvenuti a tutti questa nuova registrazione voglio scammare un boco le acque perché c'è un avviso che mi ha dato qua nella azenzia nel monitorio di servizio io voglio leggervi quello che c'è scritto avviso alla cittadinanza è stato programmato un intervento di disfestazione del territorio comunale forgate, escluse, questa operazione sarà visitata nei giorni 27, 28 e 29 cioè oggi, domani e do domani e convolgerà varie zone della città la disfestazione sarà effettuata a cura della cittadina incaricata specializzata a controllo e la prevenzione dei rischi di infestazioni l'intervento non rappresenta alcun rischio per la cittadinanza ovviamente anche questa recitazione lo manderò da pochi minuti in diretta su certo com ovviamente ci saranno ci saranno altri tre musiche che non avete ancora ascoltato però ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno ovviamente altre musiche allora vi leggo un'altra cosa che riguarda il giorno di oggi vi leggo un'altra cosa che riguarda il giorno di oggi dato un po' verso tutto qua in collaborazione con la meridiana e vendi e con nostri intervionisti pubblicitari e in regione di specifica l'indicazione del comune di shock oggi oggi e domani a partire dalle 19 su rmk canale 80 80 ovviamente canale 80 e in diretta streaming su facebook smetteremo indiretta sottolineo indiretta ed esclusiva lo show del cannevale di shock 2020 un rapporto quello tra la festa e la televisione che dopo 40 anni dunque continua che lo spettacolo abbia inizio un inizio per quelle persone che per i motivi non possono assistere alla manifestazione questo riguarda per il carnevale carnevale di shock ovviamente che sia oggi che domani da stasera e anche domani sera sempre alle 19 in punto invece su radio torna cauda e anche su risoluto punto 8 partiranno alle 15 la diritta alle 15 in punto la diritta ufficiale del carnevale di shock e noi ci aspetteremo lì da shock dalle 15 in punto con la radio ufficiale del cannevale di shock dalle 15 in punto sia audio che video ovviamente e ci risentiamo alle 15 in punto con la radio ufficiale che si chiama ovviamente radio torre macauva ci saranno tutti i nostri speaker fuori dal nostro video track che commenteranno fino alla fine dello show anche i direttori quindi commenteranno il nostro sasa salvaggio presenterà lo show ovviamente presenterà lo show sasa salvaggio un comico ovviamente un comico possiamo dire possiamo dire parlementano toc parlementano doc e mi raccomando tutti i sintonizzati invece su tele mondo e cronio cioè rmk di shock ovviamente dal 19 in punto invece su radio torna cauda alle 15 noi ci renderemo in meriti prossimo per l'ultimo intervento cioè l'ultima puntata della sezione di lingui giovanni e mi raccomando tutti i sintonizzati sia audio che video su radio torna cauda anche su rmk di shock da 19 in punto per rmk di shock da 19 invece su radio torna cauda alle 15 in punto va bene? alle 15 in punto ci saranno ovviamente le dirette a non stop ovviamente poi tutto questo accadrà poi il 3 e il 4 giugno di nuovo va bene? il 3 e il 4 giugno ci saranno di nuovo le dirette di Cannavalesciacca a non stop interviste a mani ovviamente ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata ci ritorniamo per il prossimo per l'ultimo intervento con l'ultimo puntata di lingui giovanni così poi concluderemo insieme a voi radioscoltatori e radioscoltatrici di radio torna ribera ovviamente concluderemo insieme a voi tutti questi e interventi grazie a tutti un bacio a tutti ci sentiamo pomeriggio prossimo per l'ultima puntata di live giovanni a pomeriggio prossimo ciao sintonizzati su radio torna cauda alle 15 invece dal 19 partirà su rmk di shock alle 19 in punto sia oggi che domani un bacio a tutti a presto ciao 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 ho E Chiquita, se tu passi nella zone Avrei visto qualche foto che faceva LA Impennava su un timan, scappava dalla poli O camminava per la zona con i piedi della Ziggs Calze son di Food Corner o di Frank Sacco sulla destra Montpellier, tutta France Non vado in palastra, mi alleno alle box Respiro la street, vestiti strite, petti ride Cascaschite, ho preso regali alla zone Ho portato da Paris, tutte neanche adidas La Francia in Italia, i rapper a fare la danse Da più ti rubo a credere, di maxi restavo sulla strada Da piccoli, avevamo i tagli sulle ciglia, la miccoli Il numero 10 sulla maglia, la victoria Da bebetti favola, Juve, avevo a casa la maglia di Dybala La rovescia, la pelle, tre pala Bruto Swiss de puttana, Nita Mar Sono sotto alla Fefe, Benzema Palazzo numero 9 C'è silenzio Eh, c'è non incazza con le magliette di lapi Alcuni poto a mamma non hanno mai detto merci Sono chiusi in un garage con tutti i dilevandoschi E ci sono dei batarmonami, si debattarda non lo sguardo di chi Ha bevuto delle kid, torna a casa mamma in discoteca, papà esce la nuit Conosciti ieri chi, noi siamo nati ricchi Un bebe cucina, da solo la cena per tutta la sua famiglia Cocone, lasone, botone, la misè Ale, ale, se la regalite Cocone, lasone, botone, la misè Ale, ale, se la regalite La rovescia, la pelle, tre pala Brutofista e puttana, nitamar, sono sotto alla Fefe Benzema, palazzo numero 9 C'è silenzio La rovescia, la pelle, tre pala Brutofista e puttana, nitamar, sono sotto alla Fefe Benzema, palazzo numero 9 C'è silenzio Pele, ovviamente di robe, ovviamente avete ascoltato all'inizio All'inizio della diretta avete ascoltato due particolari diciamo eventi Uno che riguarda qua Ribera che c'è stata la manifestazione E poi, poi continuare anche domani, anche dopodomani E poi l'evento di Schiak, cioè il carnevale di Schiak che partita alle ore 15 In diretta su Radio Torre Magauda Anche su risoluto.it Anche su RMK Schiak Ovviamente da 19 invece su RMK Invece da 15 su Radio Torre Magauda Si autori in video ovviamente Sempre su Facebook Sulla pagina di Radio Torre Magauda Invece su una frequenza Di Radio Torre Magauda È 90 e qualcosa Non mi ricordo che frequenza è Anche questa diretta Spero che sarà caricata Sul mio canale YouTube Sarà caricata tra pochi minuti Sul mio canale YouTube Spero di sì C'è da aspettare poche ore Ci risentiamo Veneti prossimo Con l'ultima puntata Quella ufficiale Veneti prossimo L'ultima puntata della stagione Così concluderemo Insieme a voi La diretta Di Live e Giovanni Grazie a tutti Ci risentiamo Veneti prossimo Ovviamente L'ultima puntata della stagione Poi a veneti prossimo Sarà impegnatissimo Tutto mese di giugno Sarà un brignetto Con il parco estivo Ci risentiamo Veneti prossimo Con l'ultima puntata Della stagione A veneti prossimo Ciao a tutti A veneti prossimo Ciao a tutti